Musica Cari amiche, cari amici di Rossini TV, benvenuti, benvenuti nei nostri studi che questa sera accolgono una iniziativa bellissima perché partiamo con una nuova serie di trasmissioni che avranno per protagonista la Onlus Gulliver, una realtà molto conosciuta nella città di Pesaro e non solo per il suo impegno nel sociale e proprio per capire meglio di cosa si tratta, cosa fa la Onlus Gulliver nel territorio pesarese abbiamo questa sera ospite Valeria Gianni, buonasera e Ivan Galli Laforest che è il fondatore di Rainbow, mentre Valeria Gianni è una dei soci fondatori di Gulliver Esatto Valeria, da dove nasce il desiderio, la voglia proprio di presentarsi a Pesaro per raccontare Gulliver? Allora, io sono socio fondatore di questa associazione di volontariato, è nata 12 anni fa e da un gruppo di genitori presso un asilo, una scuola dell'infanzia del nostro quartiere di Pesaro e l'idea è stata di Andrea Boccanera che è il nostro presidente e io sono sempre stata all'altra parte della medaglia perché il mio compito era quella di gestione amministrativa e siamo cresciuti pian piano e il nostro senso è un senso di volontariato e siamo nati così perché comunque è importante tramandare e spiegare che il volontariato deve fare parte della nostra vita perché è ricco di sfumature e non è solo investire un'ora perché non so cosa fare ma è un senso di presenza, di colloquio, di bagaglio di informazione, di esperienza personale quindi molte volte è di aiuto a delle persone bisognose che sono sole, che hanno bisogno di fare qualche parola e di rendersi utili e quindi piano piano siamo nati e siamo cresciuti. Abbiamo fatto in città, grazie al comune che ci ha dato la possibilità perché lui comunque è stata la guida maestro, di realizzare grazie alle donazioni che il cittadino pesarese dà alla Onus Gulliver e con l'aiuto dei volontari e dei dipendenti ottenere come fine ultimo progetti sociali gratuiti per la città quindi il cittadino ci dona un bene usato. Noi col nostro impegno giornaliero praticamente lo controlliamo lo rendiamo utile di nuovo e quindi c'è un grande senso anche di economia circolare, rispetto dell'ambiente e quant'altro e offrendolo a modico prezzo riusciamo a fare un'economia dove poi reinvestiamo tutto nella città quindi la prima cosa è dire grazie al cittadino pesarese perché ci dà fiducia e comunque siamo riusciti in questi 12 anni a contagiare questo nuovo modo di pensare e io sono qui perché da qualche mese sento la necessità di raccontare chi è Gulliver perché molte volte il cittadino pesarese dice andiamo al bottegone del riuso ma noi non siamo un mercato del riuso diciamo per noi quello è il mezzo per ottenere il nostro fine. Il nostro fine è grandissimo perché comunque diciamo nella nostra vita noi la nostra giornata ce la condividiamo con delle persone speciali, abbiamo dei ragazzi che devono scontare le pene i volontari che 12 anni fa sono stati come ad Andrea a credere in questo sogno giorno dopo giorno dopo giorno oggi come oggi hanno dei contratti di lavoro a tempo indeterminato quindi voglio dire per noi sono traguardi grandi quindi inoltre facciamo la raccolta alimentare, abbiamo 400 famiglie che tutti i giorni vengono a prendere il pacco familiare e quindi anche il ritiro presso i supermercati di prodotti alimentari a breve scadenza che magari loro non riescono più a tenere sul banco della vendita però noi riusciamo insomma a dare aiuto anche alle persone quindi voglio dire che la parola volontariato che è stata la spinta della nostra nascita è una parola ricca di sfumature ok quindi molte volte diciamo ma perché fai il volontario? No, il volontario è una ricchezza, è un'educazione, è un esempio per i nostri figli e quindi la mia necessità è quella di far conoscere a Pesaro che grazie a quel sacchetto di panni o a quel mobile senza maniglia invece di buttarlo via noi con l'impegno dei nostri ragazzi riusciamo a fare un'inclusione sociale e a ospitare delle anime che comunque hanno bisogno di aiuto e l'economia che riusciamo ad ottenere al netto delle spese vive le ridoniamo alla città e io oggi qui sono con Ivan volontario a 360 gradi e lui ha proprio scelto nella sua vita di fare il volontario l'abbiamo conosciuto per caso perché ci ha trovato su internet, è venuto da noi ed è nata una simbiosi meravigliosa e noi ogni anno come possiamo cerchiamo di sostenere il suo progetto che secondo me è il massimo e quindi è bello ascoltarlo perché comunque dà l'energia ed è l'esempio di questa parola volontariato che molte volte nasconde chissà che cosa invece lui è proprio un'anima speciale ed è di esempio secondo me ne è proprio l'incarnazione vedete si passa dalla teoria di descrivere che cos'è il volontariato alla pratica di vederne uno seduto insieme a noi, un volontario Ivan, hai un nome importante, Galli Laforest allora per prima cosa permettimi, spiegami l'etimologia di questo tuo doppio cognome da dove viene il doppio cognome viene dalla nonna che era croata e poi quando era venuta a mancare la famiglia e il babbo ha deciso che era bello continuare questo ed è molto bello questo perché mantenete proprio questa cosa che è molto molto bella perché la memoria, il ricordo delle persone che hanno poi segnato la nostra vita per tanti modi è davvero incommiabile quindi Ivan, ti chiamerò Ivan senza cognome perché se no è troppo lunga quindi preferiamo così tu sei un volontario ma non è che si nasce volontari o ci si sveglia una mattina e si dice sono volontario no, ci deve essere qualcosa dietro che ti ha portato a fare questa scelta certo, è qualcosa che gira nella testa probabilmente non lo so, cose che si vedono, cose che si sentono, che ti rimangono dentro e poi forse poi un giorno all'altro decidi voglio provare, vorrei provare a fare qualcosa ecco e cos'è stato che ha scatenato in te? cioè ci deve essere stato un momento decisivo, un qualcosa? guarda, è difficile da dire nel senso che è già qualche anno che faccio volontariato ma prima di questa ultima grande esperienza e storia c'erano state un paio di occasioni in cui avevo deciso di partire perché volevo provare cosa era veramente questa parola e questo tipo di esperienza la prima volta fu in Perù per quattro mesi in una casa famiglia parliamo del 2006 e quindi da quel 2006 a poi al 2015 di tempo ne è passato ma io quello che mi ricordo era che ogni volta, ogni anno avevo un qualcosa che mi ziava nella testa che suonavo, che si voleva far ricordare ma probabilmente lo lasciavo da parte perché avevo un'altra vita non lo so come dirlo ecco, quindi si può dire che come l'ha detto Valeria ci sono anche dei sognatori alla base della nascita di una onlus come Gulliver bisogna avere dei sogni nella vita e a un certo punto rendersi conto che questo sogno può diventare realtà e nasce Rainbow vediamo la tua maglietta che ha il nome della tua associazione quindi facciamola vedere che è anche molto bella di cosa si tratta? che cos'è Rainbow? Rainbow alla fine è una passione è una passione, è un sogno che nasce tanti anni fa e dopo un'esperienza in Cambogia di volontariato ero in un centro per ragazzi doveva essere un'esperienza di un mese che poi si è trasformata in un'avventura di due anni e mezzo Cambogia è una nazione difficile comunque una nazione con tanta povertà sì, sì, decisamente esatto era importante per me comunque andare in un posto dove ci fosse della povertà dove ci fossero delle mancanze sicuramente la Cambogia lo era come lo è come comunque anche tanti altri paesi che poi ho visitato successivamente ma era proprio da quel punto che poi è partito tutto perché dentro sentivo questo bisogno di continuare sentivo che stavo bene dovevo fare quello che facevo e sentivo che era giusto stare con gli altri dare agli altri perché mi piaceva a me e piaceva a loro i turisti di tutto il mondo vanno in Cambogia per andare a vedere i templi l'angorvat tu ci sei andato invece magari anche per quello ci sarai andato a vederli immagino di sì siamo riusciti a visitarli esatto perché è un posto straordinario però dopo hai sentito davvero questo desiderio crescere dentro di te di aiutare di dare te stesso agli altri e quindi in realtà è un percorso appunto che nasce in un certo momento opera la tua è un'associazione è un'organizzazione di volontariato è un'organizzazione di volontariato Rainbow opera in un luogo preciso oggi come oggi? oggi come oggi sì siamo in Thailandia al confine con il Myanmar in una scuola per migranti negli ultimi due anni le attività sono sempre state svolte lì e non è il confine che è noto anche questo ai turisti dove si passa il ponte per andare a dire sono stato in Birmania, in Myanmar bensì è un'altra cosa qual è la realtà di quel luogo? raccontacela un po' facci capire la realtà è un luogo che per me mi ha fatto capire che era quello il posto dove avrei voluto continuare e essere anche più stabile ed è lì il momento in cui è nato Rainbow ufficialmente come organizzazione e in realtà in cui è difficile tutto quello che è successo nel passato ma hanno avuto un'apertura nel 2015 quando delle cose un po' più aperte pubbliche con le elezioni è cambiata un po' la storia e poi si è tornato indietro e poi si è tornato molto indietro non diciamo come l'Afghanistan no però non è una bella situazione ecco non ce ne parla io continuo ad avere informazioni non è bella e ho comunque tanti amici e vecchi studenti là non è piacevole vecchi studenti perché voi aiutate a studiare aiutate i giovani a fare un percorso di cultura di conoscenza esatto Rainbow ha come diciamo l'obiettivo di aiutare in campo educativo e soprattutto bambini e ragazzi in zone povere o con disagi che possono essere come in questo caso politici, ambientali e in tutti gli anni è sempre stato fatto un progetto con ragazzi e quindi con attività lezioni, attività, attività sportive, giochi qualcosa che per loro è un po' al di fuori della quotidianità non è come i ragazzi nostri la funziona un po' diversamente a scuola si sta fino alle 5 poi a casa si aiuta si mangia, si va a letto ed è finito e quindi Rainbow aveva un po' questa particolarità di dar loro la giovinezza di giocare di fare quello che i ragazzi dovrebbero sempre fare fino a una certa età poi siccome comunque io mi sento giovanissimo dentro per me si può continuare sempre però il messaggio era quello che si può imparare si può avere una diversa educazione facendolo con divertimento sì e quindi mai dando nulla per scontato noi siamo nella nostra agiata vita occidentale dove appunto delle volte dobbiamo discutere quale sport fare fare ai nostri ragazzi pensate che non diciamo una metà del mondo ma forse sì è in quelle condizioni dove i bambini e dove i giovanissimi hanno ben altri obiettivi magari quelli di mantenere la famiglia e di uscire da scuola alle 5 e dover organizzarsi per la serata in famiglia mi pare che state sostenendo anche tuttora vero lo studio di ho letto qualcosa di tre ragazze nel particolare e ci tengo a questo aspetto perché anche qui è molto importante il fattore femminile cioè quindi la volontà di appoggiare questa parte così importante del mondo sì esatto in questi due anni in questa scuola sono stati fatti anche dei progetti in un altro centro che è proprio a Mesot proprio a confine da un centro dove c'erano solo ragazze il primo anno di questi ragazzi che hanno un giorno mi confidarono che volevano riniziare a studiare e non ci ho messo molto tempo per dire ragazze va benissimo Rembo vi aiuterà con questo parliamone con i genitori parliamo con la responsabile poi facciamo in modo di quindi ad oggi sì ci sono queste tre ragazze che stiamo sostenendo per andare a scuola ovviamente sosteniamo per i prossimi 5 anni fino a che non finiscono e quest'anno probabilmente se ne aggiungeranno altre due che hanno una ragazza ha fatto ha richiesto questo aiuto e un'altra invece che è una bambina più piccolina potrebbe avere dei problemi perché senza famiglia quindi potrebbe avere bisogno di supporto siamo contenti di esserci ecco e ribadiamo questo concetto pensate che ci sono parti del mondo in cui si deve chiedere aiuto per studiare è abbastanza impressionante questa cosa quanti siete in Rainbow tu che ruolo hai tu sei il fondatore io sono fondatore di Rainbow volontario attivo sul posto che era la parte fondamentale cioè c'è Rainbow ma c'è Ivan sul posto non è che mandiamo soltanto le donazioni e poi finisce lì perché appunto per me era molto importante essere lì e far vedere che è il tempo che dedichiamo la parte più importante alla fine poi con Rainbow ci sono i soci i soci fondatori che svolgono attività qua quando per sensibilizzare magari il pubblico quando facciamo degli incontri o cose varie quando Ivan ritorna da là esatto perché ogni tanto Ivan ritorna ma contemporaneamente c'ha sempre dentro questo fuoco per andare certo e per dare se stesso poi avete incontrato Gulliver l'ha già detto Valeria prima ed è stato una specie di colpo di fulmine perché avete incontrato una realtà così viva nell'ambito del sociale della città di Pesaro che ha deciso di affiancarvi in questa opera certo è stato sì è stata una diciamo coincidenza anche perché non dovevo ciò del periodo non è il periodo in cui io sono a Pesaro e per me era un momento perché ci sono dei periodi precisi la scuola va da giugno a marzo quindi io da giugno a marzo comunque sono impegnato poi dopo la fase di ritorno durante la primavera di solito per uno o due mesi dipende quel periodo era luglio del 2021 per me era un periodo un po' particolare perché ero stato rimandato forzatamente in Italia dall'ambasciata italiana a Myanmar perché c'era stato questo colpo di stato dove non c'era più sicurezza dove mi è stato gentilmente chiesto di lasciare il prima possibile però da lì quindi da febbraio a luglio le cose sono là sono andate un po' peggiorate e la situazione mia era che avevo tutti gli amici e ragazzi là che mi raccontavano mi facevano vedere mi parlavano mi facevano vedere le foto che loro andavano a combattere e per me non era facile perché io non sapevo poi non sai se li rivedi non sai se li risenti perché era una cosa molto molto forte e allora avevo sentito parlare di Gulliver e avevo fatto le ricerche quindi su internet e avevo chiesto un po' in giro per vedere cosa era Gulliver nei valori essenziali e leggendo ho detto ma ci siamo sono gli stessi mi ci ritrovo siamo molto molto vicini e quindi ho deciso di andare a prendere qualche libro alla Gulliver e poi di provare a parlare con qualcuno e da lì è stato tutto molto facile perché ci siamo capiti con tutti molto facilmente effettivamente qual è il ruolo di Gulliver in questa tua missione in Myanmar ma non solo perché appunto tu hai avuto tante esperienze di volontariato grazie a Gulliver in questi questi ultimi anni e oltre a quello che io faccio come volontario attivo come insegnante come educatore là è stato permesso l'aiuto a queste ragazze per andare a scuola per i prossimi 5 o 6 anni e già non è cosa da poco e l'anno scorso durante aprile c'è stato dei combattimenti che erano un po' troppo vicini al confine vicino alla scuola molte persone molte famiglie si sono rifugiate alla scuola proveniente dal lato del Myanmar e grazie a Gulliver Rainbow è riuscito a mandare degli aiuti economici per comprare cibo per comprare i beni di prima necessità e successivamente durante un uragano la scuola è stata in parte distrutta grazie alla Gulliver Rainbow è riuscito a mandare donazioni per risistemare i dormitori risistemare i bagni e un po' a mettere le parti che erano un po' più più rotte e metterle in sicurezza per il nuovo anno scolastico pensate quindi ragionando proprio da comuni cittadini ci ritroviamo a pensare a uragani che spazzano via le scuole guerre che mettono in pericolo la vita delle persone povertà cultura completamente da costruire e persone e persone come te che fanno della loro vita questa missione per poter migliorare lo stato degli altri questo è il volontariato e credo che questo fosse quello che intendeva prima Valeria Valeria ti sei un po' emozionata durante i racconti di Ivane eh sì perché comunque è un onore sapere che associare un dono di un cittadino noi come impegno quotidiano l'inclusione sociale dei ragazzi speciali tanto impegno molto credo e quello che rimane riusciamo a sostenere un progetto dall'altra parte del mondo dove la gente è meno fortunata di noi cioè i nostri ragazzi hanno tutto hanno i cellulari molte volte sono infastiditi quando i genitori li richiamano per un dovuto motivo e dall'altra parte del mondo dove Ivan fa la sua vita ci sono dei ragazzi degli adolescenti dei bambini che non hanno neanche una piccola bambola o un piccolo giocattolo per godere la propria età quindi cioè per me è il massimo sapere che comunque tutta questa sinergia fa sì che un'associazione di volontariato pesarese quindi non è Milano è anche una città provinciale riusciamo con questa energia di Ivan passare le frontiere andare oltre andare oltre infatti anche quando ci manda il materiale fotografico con grazie a Luz Gulliver per me è un onore e dovrebbe essere un onore anche per il cittadino di Pesaro perché comunque la nostra vita è grazie alla donazione del cittadino pesarese quindi è il massimo sì grande infatti hai davvero spiegato molto bene questa sensazione volevo chiudere con Ivan parlando anche di l'hai detto quasi così inavvertitamente confine voi siete presenti anche proprio nel confine fra Myanmar e Thailandia addirittura mi pare di che aver visto che si sconfini per andare anche a scuola ma è così semplice cioè sono aperti è possibile fare questo oppure no è possibile sì anche perché come zona è un confine sono due differenti stati ma l'etnia è la stessa dove magari ci sono i villaggi sono da una parte del confine e i loro campi sono nell'altra quindi dove siamo noi è una zona dove c'è libero passaggio chiaramente per le famiglie non per chiunque dove anche noi quando andiamo a trovare le famiglie dei ragazzi quelli che abitano più vicino oltrepassiamo il fiume e siamo già siamo già in Myanmar quella parte lì è abbastanza tranquilla oltrepassate su un ponte con delle parche no aspettiamo la stagione la buona stagione per poter attraversare il fiume a piedi o nuotando c'è la barca c'è la barca ma in altra stagione non è consigliabile perché la corrente è molto forte il fiume è molto alto e con tutti i ragazzi non è proprio la cosa ottimale però si lì è facile poco più a giù quindi 30 km più a sud Mesot non lo è è il confine quello vero e tuttora stanno combattendo quindi la situazione è molto diversa un'ultimissima cosa per chiudere con una battuta Ivan hai detto che sei anche insegnante proprio scusa in che lingua? italiano? thailandese? birmano? croato? dici tu no ho fatto molti paesi in questo in questi otto anni sì e quindi quando riuscivo ad imparare un po' la lingua il minimo indispensabile per riuscire a spiegarmi con i ragazzi poi arrivava un qualcosa che mi doveva far cambiare quindi avevo imparato un po' il birmano e poi l'autocopo di stato il problema è che qui si parla un'altra lingua ancora che è il Karen il Karen chiaramente ha varie varianti e quindi adesso è un pochettino più difficile qualcosa sto imparando ma non è non è proprio semplicissimo quindi in inglese è tutto per chiudere sì facciamo l'attività in inglese chiaramente così anche loro imparano avranno più confidenza nel parlare grazie Ivan grazie davvero per questo racconto che ci è piaciuto tantissimo e ci ha reso perfettamente l'idea di quello che fai e grazie Valeria grazie Valeria per questa serie di incontri che faremo alla scoperta dell'Onus Gulliver continuate a restare su Rossini TV ci vedremo presto da questo studio con Valeria e altri ospiti perché saranno tante le occasioni per poter raccontare quello che Gulliver appoggia buonasera Valeria grazie buonasera a voi ciao Ivan grazie davvero buonasera a voi carissime telespettatrici e telespettatori ci vediamo presto continuate a restare su Rossini TV grazie a tutti